Allora andiamo? Faccio una cosa metto sulla pettorina e provo la GoPro sulla pettorina. Qua? Qui? di qua a destra era occhio e l'ho già presa sbagliata guarda destra destra m7 ma perché mi inchiodi sulla curva rallenta prima e farla correttamente al limite dai un colpo di coda ecco la seconda volta che la faccio la seconda volta che la sbaglio ecco la seconda volta che la faccio la scuola ecco 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 la scuola Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sbagliato. 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 Sbagliato.